ragazzoli belli prima di lasciarvi con il video vi ricordo che sono in live su twitch da lunedì a sabato a partire dalle ore 15 vi lascio il link del mio canale sotto al video in descrizione buona visione lei deve pulare sull'arma di jelan ha detto poi facciamo lo scherzo e mettiamo la scherza allora le sa piti mo lo contiamo prima sono la persona più felice del mondo chiara che che ti ha blessato dillo dillo che ti ha blessato mi ha detto che blessa l'arcon del culo quindi pillo sennò di ban no sto scherzando allora accanto di fedez 3 multi per i baner armi piti 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 55 56 57 58 58 di piti teoricamente una multi hash ciao 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 a gu blessami per la uva per favore ti blesso da troppi allora avevo detto mi sono già scordato piti vabbè devi 58 con questo arriva 68 il soft piti lo supera dovrebbe vincere il 50 e 50 spero per lì che io lo vingo perché sennò mi strappa le palle già lo so dovrebbe uscire teoricamente dopo questa ok ti prego esce l'acqua simulacra devi uscire l'acqua simulacra devi uscire gli devo vingere il 50 e il 50 e devi uscire l'acqua simulacra che dire che dire dato i punti sul sì signori che dire io non mi smendisco mai allora accanto della signorina vi ho piti vendi vediamo che cosa esce beidu piti 30 the flute piti 40 ninguang ok piti 50 ninguang piti 60 dai esci subito sto cazzo di 5 stelle favonius warbo piti 70 esce sto 5 stelle madonna beidu e ninguang insieme teoricamente questa esce ora piti 80 eccolo 5 stelle ti prego gesù faghi vingere il 50 e il 50 ti scongiuro ti scongiuro ti scongiuro non farmi sciaffatare ora madonna mi ha fatto cacare in mano beidu di me e utao esce e vince e vince il 50 e il 50 diamo i punti su sto sì qua facciamo un piccolo recap del banner army ah piti 0 con il 50 e il 50 vabbè sì un recap piti 0 con il 50 e il 50 da vincere bene abbiamo 72 puli quindi il soft piti lo superi bentornato franchino franchino sto distruggendo tutto sto distruggendo mi sono perso qualche iperculata sì ho vinto il banner allora ho vinto il 50 e il 50 su banner army per fede ho vinto il 50 e il 50 sull'accanto di vio per utao e mo stiamo andando a fare l'arma sull'accanto di di vio per utao banner army 0 di piti 50 e 50 da vince facciamo prima le due singolette piti 1 piti 2 che è uscito non lo so franci ah franci ma ci stavano ah no perché c'è quel problema con il telefono ah ok ok allora piti 2 piti 12 madonna 5 stelle piti 12 5 stelle signori staff woman vabbè vabbè io non ho ancora visto l'ho visto ma tu ma tu ora ora vio piange signori amo amo che ti ho detto in questi giorni è capace che ti faccia una sculata gli dissi raga io non gli dissi amo io ti prendo la staff woman a piti 0 eh vabbè piti 0 piti 10 ma tu 5 stelle no di look eh ma io non ti credo vabbè allora però adesso dovete consigliarmi sì amo prendila no prendi ielan fai così ti prendo ielan e scioppi per zongli allora se ti esce ielan in 50 pool scioppi per zongli ho bisogno di un consiglio mi sono rimasto 87 pool chieda tienile per scignan chiara ma vai cagare senti madonna se faccio madonna mo te lo sto distruggendo minchia pure io è uscito te lo sto distruggendo sto ban ecco l'ho arrivato eccola piti 30 piti 30 piti 30 signori mi sa che una fortuna tanto è finita perché tanto con me troverò solo all'ultimo bene mi dispiace io veramente siete rossi siete rossi distrutto amo ci vediamo qua allora ci sono rimasti pool mi hai 118 il numero perfetto però voi prima vuoi prima jelan si giustamente allora mettiamo il certo corso hai prima tre singole e poi fai la multa ok vediamo prima il piti a quanto sta due di piti due di piti quindi vuoi fare quante singole tre fai tre tre ok quindi tre di piti quattro di piti cinque di piti tanto sono già che arrivo cari come vabbè sì cinque di piti ora quindici di piti cincio 25 25 di piti 35 di piti che madre mca sono usciti 3-4 stelle non l'ho visto 45 di piti cinquantacinque di piti cincio 65 di piti linguang 75 di piti tutta la fortuna ha preso la e da tazio andiamo di singoletta andiamo di singoletta 75 di piti 76 iniziamo il soft di piti 77 78 dovrebbe uscire proprio qua ecco no 79 a 80 esci sicuro eccolo e vince no sì eccola ovviamente fume ho preso l'uma grazie ma io te l'ho detto i miei blessing non sono dell'ike congratulazioni per l'uma bravissimo quanti piti abbiamo vinto oggi 50 seconda tutti tutti qua i tuoi best superano solo sugli altri ora ho un'arma tanto dubbio che trovi l'arma ancora 20 pull e mi blessi anche gli elan ti blesso la prendi 20 pull allora anche l'arma devo prendere le star glitter qua 9 è praticamente la multi allora arma come oggi è la già oggi sono due anni che è così Jacopo allora 50 pull banner army acqua simulacra giusto yes piti piti sono 1 2 3 4 di piti 14 di piti non è detto 14 piti 24 di piti 34 di piti 44 di piti rosaria 54 di piti 2 rast attenzione 60 ma sono finite le pull eh sì sono finita oh cazzo non me ne ero accorto ero che stavo continuando sono 19 esatto quando siamo di piti mi sono scordato quant'era 50 59 di piti 60 61 beh tanto ma se puoi 62 vabbè 62 te li puoi shoppare na multi tipo 15 euro lo puoi fare no probabilmente no no allora niente allora devi farmare semplicemente 54 si vede sì allora pull 81 mettiamo l'acqua simulata no mettiamola sta fuoco esatto 81 piti un piccolo recap vediamo un po' e sono 5 sono ah proprio 5 8 8 di piti facciamo prima sta singoletta 9 di piti 9 di piti mi sono una certa messaggera no tranquillo non puoi parlare non ti preoccupare 9 19 29 29 29 di ungi buona 39 49 abbiamo detto 49 59 dopo questo off eccolo no è vero non è vero sembrava lui perché comunque si vede la lucina un pochettino più grossa quando c'è quindi dovrebbe essere abbiamo detto 59 69 dovrebbe essere questo sì teoricamente dovrebbe uscire teoricamente eccolo infatti ti prego bello mio dai cerchiamo di chiudere in bellezza io ingiaezzo ho fatto che cerchiamo di chiudere in bellezza sono 3 4 5 6 7 vado 8 acqua simulata bello mio la polivite l'ho data che vuoi cioè la volevi è arrivata avevi dubbi è uscito pure Kusho Sara abbiamo 26 pull quindi 11.000 primo gem pt abbiamo pt0 vediamo come va a finire come con la oma balla mi è arrivata a 210 di damage e se mi chiama direi ovvio da un boost enorme la oma se non avete l'arma sua di balla potete usare tranquillamente la oma allora pt0 26 pull facciamo 10 di pt raste e bito così subito 20 di pt aspetta tu volevi più tau meno male che i pt sono scerati tu volevi più tau sì ah mi stavo cagando in ma meno male che i pt sono scerati ok allora 20 pt 30 di pt madonna rosario e 2 si 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 non ti preoccupare poi facciamo e abbiamo detto quando siamo 30 di pt 40 di pt dai 50 di pt dai devi uscire subito facciamo facciamo prendere sto personaggio subito la signora alfa che ne ha bisogno avevo detto 50 60 ah no tu c'è il garantito ah c'è il garantito non ti preoccupare vediamo se se ti sculava prima era meglio se ti sculava prima 70 di pt andiamo di singoletto eh si era meglio se ti sculava subito xinch 71 72 73 74 75 76 dai 77 dai così alla 77 no niente mo ti devi fare l'80 78 eccolo è arrivato 78 dai non non si è arrivato a meno a 90 non si è arrivato dai 78 non si è arrivato